Sontità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini. Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso, ho l'ordine di condurre sua santità dal generale Miollì, che le indicherà il luogo della sua destinazione.